Siamo al Parco Nord, al Climate Fest, con Nadia Torchia. Adesso ci spiegherà perché al Climate Fest. Dunque, sono stata invitata dall'Associazione Amici del Parco Nord a questa manifestazione e a disporre un po' i miei quadri che avevano come soggetto l'ambiente. E quindi ho portato delle tele che rappresentano paesaggi e comunque flora, fauna. E queste sono le opere. Queste opere qui invece le ho realizzate apposta perché in questo parco, al Parco Nord, c'è un laghetto il cui abitante è un cigno che pare essere cattivissimo. Si chiama Brutus, è bellissimo ovviamente. E allora queste sono state proprio realizzate in favore di Brutus, di questo cigno. Anche perché di ambiente e sostenibilità si parla. Facciamo vedere altri quadri che sono questo, per esempio. Questo è il Parco Nord in autunno, quando ci sono dei colori stupendi, meravigliosi, e quindi l'ho rappresentato. E poi ci sono farfalle, ci sono quello che si chiama acero, quello sotto, sotto la farfalla. Ecco, quello che si chiama acero perché ci sono degli aceri meravigliosi qui. E beh, è un ambiente stupendo. Il Parco Nord è splendido. Esatto, anche perché questa è pura natura in piena Milano. Assolutamente, sì. E lei cosa ne pensa della natura a Milano, della sostenibilità? Che opinioni ha? No, penso che la natura debba essere assolutamente sempre al primo posto per tutti. Credo che ci sia molto da fare ancora per la sostenibilità, per il clima, per l'ambiente. A cominciare da noi, però i politici devono metterci la faccia, devono metterci le risorse per poter andare avanti. Ma lei è proprio di Milano, abita qui? Sì, sì, sono di Milano, abito in Bicocca e spessissimo vengo al parco a camminare o a correre o in bicicletta. E lei dipinge proprio nel parco? No, io ho uno studio in Viale Suzzani 273 ed è lì che dipingo, ma l'ispirazione ovviamente è il parco. Quando dipingo questo genere di cose, perché se faccio a strati, insomma, però è una fonte inesauribile di ispirazione il parco. Perfetto, grazie mille. Grazie.